Tutto quello che facciamo lo fa tutta la Madonna, questo voglio dirvi, ecco, ho iniziato tutto e poi attraverso un'amicizia straordinaria con i nostri sacerdoti che sono qui, andiamo in Africa ad aiutare un altro sacerdote. Andiamo in un posto molto povero dove il 50% della popolazione ha difficoltà a riperire l'acqua, non c'è istruzione, non c'è sanità, ecco, quindi andiamo direttamente sul campo di battaglia. E lo facciamo a nome di Dio, a nome della Madonna, portando il Vangelo e aiutando questi persone, questi bambini, ecco, innocenti che hanno tanto bisogno di una speranza a un futuro migliore. Come dice madre Teresa di Cancutta, è proprio nella condivisione che riusciamo a sconvincere la povertà, quindi ecco, ho bisogno di tutti voi. La provvidenza c'è, però voi siete una grande forza per noi e di continuare. Fino ad oggi ho realizzato sette pozzi, un ospedale, un ambulatorio e una scuola. Quindi quest'anno, che andremo dal 9 gennaio fino al 29 gennaio, realizziamo altri due pozzi e un ambulatorio. E continuiamo, finché la provvidenza vorrà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.